I controlli in via Fornari verranno intensificati già nei prossimi giorni, lo comunica la Polizia Municipale all'indomani del Servizio di Telelibertà che ha messo in luce la problematica dell'eccessiva velocità delle auto che transitano sulla strada che collega la Statale 45 alla Provinciale Valnure. Il comando di via Rogerio spiega di aver sempre dato risposta alle segnalazioni già dal 2012 e che i controlli avvengono regolarmente. La strada stretta, precisa la Polizia Municipale, non consente un presidio per ragioni di sicurezza, sia nei confronti degli operatori sia per gli utenti della strada. Via Fornari è una zona 30 con divieto di transito agli autocarri, divieti che molto spesso non vengono rispettati, lamentano i residenti che hanno scritto a tucronista at teleliberta.tv. Inoltre il traffico si intensifica pericolosamente in alcune fasce orarie quando la via viene utilizzata come scorciatoia. Gli agenti di via Rogerio fanno quindi sapere che l'attività di monitoraggio verrà potenziata. Gli agenti di via Rogerio fanno quindi si tratta di via 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 Grazie a tutti.